Luglio-agosto, interista, sogna sotto l'ombrellone, tricolore, coppe varie, a settembre il campionato inizierà, e come l'anno scorso, e come l'anno prima, il nostro chiacchierone continuerà a sognare quel tricolore coppe che non vincerà, Triburo Sonera, buonasera, andrà tutto bene con Conte, in Italia, cioè in questo momento abbiamo i due conti, ragazzi, i due visconti di mezzati che sono uno peggio dell'altro, uno allenatore dell'Inter e l'altro presidente del Consiglio Italiano, Triburo Sonera, amiche amici del Marietto, buonasera e bentornate, e bentornate a questo nuovo appuntamento col vostro Marietto Milanista, oggi 10 di dicembre 2020, è l'ultima partita del girone del Milan contro lo Sparta-Praga, una partita che non ha assolutamente nessun senso, visto che per noi è poco più che un amichevole, visto che abbiamo già passato il girone, bisogna vedere se poi come primi o come secondi, che chiaramente cambia molto arrivare primi o arrivare secondi, perché incontreremo delle squadre certamente con un peso diverso, però detto questo il turno è passato, noi l'abbiamo passato, mentre l'altra parte di Milano, o meglio dire Interland milanese, perché per me l'unica squadra di Milano sono solo questi colori qua, che sia chiaro, e quindi inizierei con, uè animale, scendi dalla pianta, Inter is nothing, e voglio sapere nei commenti qua giù in basso, chi è quel famoso attore che ha detto questa frase, vi ho un suggerimento, avevi i baffi, detto questo quindi l'Inter è fuori dalla Champions League, ma anche dall'Europa League ragazzi, ultimo posto per i Nerazzurri nel loro bellissimo girone, con Schachter, Real Madrid e Borussia, Mohenchen, Gladbach. Al finale il Gladbach e il Real Madrid non hanno fatto nessun biscottone, ha vinto il Real Madrid 2-0, l'Inter è finita 0-0 nonostante i 4 minuti recupero alla fine, è finita a 7 minuti e 24, cioè l'arbitro ci ha messo anche del suo per fargli segnare, perché però non c'è trippa per Gatti, loro non hanno DNA di Champions, ne è inutile che, anzi neanche di Europa League quest'anno, quindi già parte dei loro sogni e delle loro ambizioni di quest'anno si possono prendere, tirare la corda del cesso e tirarle giù. Quindi con Antonio Conte cosa è cambiato? Doveva arrivare Conte, Marotta, tutti questi grandi acquisti, milioni e milioni, criticano il Milan, continuano a criticare il Milan, però il Milan è al primo posto, l'Europa League l'abbiamo passata, l'Inter è a 5 punti da noi ed è fuori già dall'Europa a dicembre. Donks, dunque signori, vogliamo parlarne? Ne vogliamo parlare? E vabbè ragazzi, quindi niente, oggi gioca il nostro Milan, però prima di arrivare a questo, ieri su Milan Live c'era stato un sondaggio che era stato lanciato dalla redazione e che voleva appunto alla domanda Pessina al Milan, e anche voi vi lascio questa domanda, se a voi vi piaccia o meno il Matteo Pessina che tra l'altro con la maglia di Atalanta ieri ha fatto benissimo contro l'Ajax e anche l'anno scorso quando giocava nel Verona, sicuramente è stata una grandissima stagione, e quindi il 57,3% dei votanti sono a favore dell'acquisto di Pessina contro i 42,7% contrari. Tra l'altro il Milan potrebbe riacquistarlo, visto che faceva parte anche del nostro settore giovanile, proprio quando hanno ceduto Pessina a Bergamo si sono riservati il 50% dei ricavi sulla futura vendita, ciò vuol dire che lo potremmo riprendere a metà prezzo. Io vi dico la mia, a me piace tanto, è un giocatore italiano di talento, sta dimostrando anche nell'Atalanta nonostante non fosse partito come titolare, si sta ritagliando spazi, è un bellissimo, bellissimo, bravissimo, è bellissimo, bravissimo giocatore là in mezzo al campo, veramente per noi potrebbe tranquillamente entrare poi nello schema di Pioli, e tra l'altro è anche un giocatore che viene dal nostro settore giovanile, quindi sarebbe far tornare un po' all'ovile anche chi poi in questi anni ha dimostrato anche, ripeto, tanto nel Verona che ora è nell'Atalanta, quindi con pagini che in Italia stanno dando filo da torcere da anni, di essere un ragazzo che già è sul pezzo, quindi io davvero non ci penserei due volte, e se a gennaio il Milan se lo ripigliasse sarei contentissimo. Quindi passiamo per concludere, visto che oggi non è che mi va di dar tante notizie, già stamattina abbiamo cominciato con quella di Paolo Rossi, veramente che è stata l'ennesima botta del 2020, cioè veramente, speriamo che finisce sto anno bisestile perché è qualcosa di allucinante, veramente allucinante. Quindi stasera il Milan, che potete vedere alle 21.05 su Sky Sport, giocherà con un 11 completamente rivoluzionato, in porta Tatarasano. A destra si rivede Conti, a sinistra ci sarà Dalot, in mezzo coppia inedita Calulu-Duarte, Musacchio in panchina è probabile che comunque entri nel secondo tempo. Davanti ci sono Tonali e Krunic e dietro l'unica punta, Lorenzo Colombo, ci sono Castillejo, Maldini o Brahim Diaz, c'è quest'ultimo dubbio, e a sinistra il vichingo Auge. E' totalmente una formazione sperimentale, sono 11 completamente nuovi di colpo, vediamo cosa succede, io sono curioso chiaramente di vedere perché è un'ottima occasione anche per molti per mettersi in mostra, visto che fino adesso la maggior parte di questi hanno fatto panchina, a parte forse ultimamente un po' più Auge che entra o Castillejo, Tonali, però per il resto sono giocatori, Duarte è la prima volta che lo rivediamo, Calulu da quest'estate non lo vedo, dalle amichevoli, Tatarasano dopo quel gol che ci ricordiamo di qualche mese fa, l'avevo messo già nell'armadio, nel dimenticatoio, Maldini anche stasera avrà un'occasione dopo mesi che anche lui non sta giocando dall'inizio e Lorenzo Colombo qui davanti. Ragazzi vediamo come va, io sinceramente stasera la vedo come poco più che un amichevole vedere la sgambata di questi ragazzi e niente, vediamo, non so neanche se poi a fine partita ci farò un po' spartita, vediamo perché vediamo, vediamo, al massimo ne parleremo se non riesco stasera, domani, vediamo come mi gira la vibra perché oggi sinceramente un giorno un po' no, per me, anche per varie questioni mie personali, tante carte, cose che devo muovere, ho un po' la testa per aria, quindi vediamo un attimino se più tardi riesco a fare il video post partita o altrimenti, come sempre, al vostro marietto milanista, sempre con mio cuore rosso nero, forza Milan, ovunque e comunque, stasera chiaramente speriamo in ogni caso una vittoria, cioè quando gioca al Milan, che sia un amichevole, che sia il turno passato quello che sia, speriamo in una vittoria e comunque in bocca al lupo ai ragazzi e sempre forza Milan, ci vediamo alla prossima, ciao!